Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, due chilometri di coda tra Firenze Nord e la variante di Valico, per lavori. In A12 l'area di servizio di Castagnolo in direzione Rosignano è sprovvista di GPL. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra Badesse e Siena Nord con chiusura dell'entrata di Badesse in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Sulla statale 3 Bis Tiberina riduzione di carreggiata per lavori tra Madonnuccia Poggiolino e Pieve Santo Stefano Sud in direzione Ravenna. Chiusi gli svincoli di Madonnuccia e Pieve Santo Stefano Sud. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!